Era il 5 febbraio del 2014, quando durante i lavori di rifacimento di Piazza San Glioluca e Vivo Valencia vennero ritrovate le vestigia di un edificio probabilmente di epoca ellenica, una domus romana di età imperiale, ornata con un mosaico, e un battistero paleocristiano. Una scoperta che suscitò non poco stupore, soprattutto quella del battistero, che qualcuno negli anni tentò anche di attribuire alla presenza ebraica nella zona. Ma se per la prosecuzione dell'opera pubblica si è preferito catalogare e ricoprire gran parte dei manufatti per salvarli, per quanto riguarda il battistero si è optato per il restauro e la costruzione di una struttura che ne potesse valorizzare la bellezza. Ripartono i lavori, la piazza tra alti e bassi viene terminata, ma per quanto riguarda il battistero nulla si muove. Anzi, l'importante scavo diventa un ricettacolo di spazzatura, tanto da costringere l'associazione Prociv Augustus, affiliata all'associazione nazionale Proteggere Insieme, specializzata in tutela e salvaguardia di beni culturali, ad effettuare un intervento di pulizia del sito archeologico del IV secolo a.C., sotto l'attenta supervisione dell'archeologa vibonese Maria Angela Prenda. Da allora si è parlato di un ulteriore progetto di salvaguardia di questo battistero, che dovrebbe appartenere ad una basilica risalente all'incirca l'anno 1000, costruita su un insediamento di epoca romana, unica nel suo genere in Calabria. Un primo stralcio ha permesso di costruire l'impalcatura metallica, che per moltissimi mesi è stata ricoperta da un telone verde, facendo sembrare il tutto un cantiere a cielo aperto. Finalmente, adesso, sotto la supervisione dell'archeologa che coordina i lavori del Parco archeologico di Vibo Valencia, Maria D'Andrea, sono stati montati i vetri, che permettono di vedere all'interno dello scavo. Si tratta di un'opera che dovrebbe evitare la formazione di condense, in quanto ci sono delle feritoie che permettono al vapore acqueo che si forma con il sole e all'umidità di fuoriuscire con facilità. I vetri sono anti-sfondamento, ma in caso di necessità si possono togliere senza problemi. In più, sui delati ciechi è previsto il posizionamento di due panchine, così da poter permettere a chi volesse di sedersi e godere la bellezza delle porte del Niglia del Duomo di San Lio Luca.